In questo video, Maraviniere e suo marito Nicola Carraro condividono le loro preoccupazioni riguardo al periodo difficile che stanno attraversando Carraro, un noto produttore cinematografico ed editore italiano, si apre con i suoi fan e parla dei problemi attuali, in particolare riferendosi agli stupri e ai continui femminicidi Egli esprime la necessità di agire, soprattutto nelle scuole, per cambiare l'educazione dei giovani, affrontando le problematiche sessuali e civiche La coppia sottolinea la gravità della situazione e la responsabilità delle istituzioni, come la scuola, nell'affrontare questi problemi